Tanta musica e allegria per la 45esima edizione del Carnevale dei Ragazzi di Val d'Ottavo. Domenica scorsa si è svolta la prima delle due uscite con una grande partecipazione di pubblico che ha sorpreso anche gli stessi organizzatori. Non ce l'aspettavamo, ogni anno è sempre meglio. Siamo felici, una bella giornata. Quasi 2000 tra gente presente, componenti dei 5 cari dei vari gruppi mascherati che hanno ravvivato la giornata favorita da un clima quasi primaverile. Il Carnevale, organizzato dal Comitato Paesano di Val d'Ottavo, coinvolge tutto il territorio. Infatti hanno svilato anche vari gruppi mascherati, tra cui quelli di Partigliano e Tempaniano di Val d'Ottavo. Sì, tutto il paese ogni anno si danno da fare carristi e fanno cose sempre più belle, con sempre più impegno. Tanti i temi trattati nei 5 cari in concorso, tra questi anche un messaggio contro il gioco legalizzato anticipato dalla distribuzione di questi Nando Dollari. A Val d'Ottavo, in tutti i bar, a nome mio, ti danno da bere e poi passo io. Abbiamo scelto di scegliere un messaggio importante contro il gioco legalizzato. Tanti carri, tutto il paese, i paesi vicini coinvolti, provenienti persone anche dal resto del comune, dalla media valle del Serchio. Ecco, un momento bello di condivisione, dove stiamo insieme in allegria, dove la creatività sale veramente a dirigere tutto, quindi un momento bello in cui i colori, l'allegria, la fantasia e il vivere la faccia più bella dei nostri paesi. Domenica prossima, 26 febbraio, a partire dalle 15 si replica e al termine della giornata verrà premiato il carro più bello.